L'Inps ha diramato una circolare con cui ha spostato il 31 maggio il termine per presentare le domande di reddito di emergenza. Ci sarà tempo fino al 31 maggio per fare domanda di reddito di emergenza, lo rivela Giuseppe Visco del patronato Inca CGL Chieti. Le domande per le famiglie in condizioni di difficoltà a causa della pandemia vanno inoltrate esclusivamente in via telematica sul sito dell'Inps. Il sostegno avrà la durata di tre mesi, la prima tranche verrà erogata dal 15 maggio e può variare da 400 a 840 euro, secondo requisiti legati primo tra tutti alla presentazione del modello ISEE. Volevo ricordare che per avere il reddito di emergenza bisogna avere una serie di requisiti, sono due le tipologie di beneficiari. Abbiamo quelli che devono soddisfare i requisiti che erano già previsti per il REM l'anno scorso, quindi un ISEE non superiore a 15.000 euro, e determinate condizioni di natura reddituale anche riferita al mese di febbraio per quanto riguarda ciò che effettivamente il nucleo familiare ha percepito in termini di stipendi, disoccupazioni e altri redditi. Mentre c'è un'altra platea di beneficiari che sono quelli che riguardano le persone che hanno finito di terminare di percepire o la NASPI o la DISCOL entro il 28 febbraio. E qui c'è un requisito di ISEE molto più ampio rispetto alle beneficiari tradizionali che è fissato a 30.000 euro. Ricordiamo inoltre che il reddito di emergenza è destinato solo ad un componente, il nucleo familiare. Per tutti i dubbi il consiglio rimane comunque quello di rivolgersi a chi ne sa di più, cioè ad un patronato. Anche perché è possibile che il potenziale beneficiario di REM sia in realtà, possa avere il beneficio anche del bonus 2.400 euro, che è incompatibile con il REM. Ovviamente se si presenta una prestazione non si può avere beneficio all'altra. Tenendo presente che è imminente anche un nuovo decreto, il cosiddetto decreto sostegno IBIS, dove molto probabilmente queste prestazioni, sicuramente quella del bonus, sarà reiterata. E quindi ci sarà anche lì forse un meccanismo di automaticità della prestazione. È chiaro che se una persona che ha diritto ad entrambe le prestazioni, quella di 2.400 euro e quella del REM di 1.200, chiede il REM piuttosto che il bonus, non solo perde nell'immediato la possibilità di avere 1.200 euro, ma magari perde anche la possibilità di avere il beneficio anche col prossimo decreto. Quindi bisogna stare molto attenti a presentare questo tipo di domande. Il consiglio è rivolgetevi al patronato che fa una disamina di tutti i requisiti che è in possesso la persona per poter chiedere la prestazione più favorevole.